Ciao da Eva, oggi vi parlo del Brown Series 9 Pro. Si tratta di uno dei migliori rasoi brown in commercio e di un prodotto veramente versatile. Rispetto alle versioni precedenti è stato reinventato con una nuova testina Pro Head radente e con 5 elementi diversi di rasatura. Tra le varie lame abbiamo il rifinitore Pro Lift che attraverso un'esclusiva tecnologia sonica di Brown aiuta a radere più velocemente e con una rasatura morbida e piacevole in poche passate. Questo rasoio elettrico da uomo è perfetto per le barbe da giorno fino a quelle di una settimana. L'aggiunta del nuovo pulsante di precisione che blocca la testina del rasoio consente di sollevare e tagliare anche i peli difficili. Grazie alla tecnologia AutoSense le lamine Brown regolano la potenza in base alla densità della barba per una rasatura profonda anche su barbe folte. Però vi consigliamo di accorciarla prima per avere un comfort maggiore durante la rasatura. Nascosto nella parte posteriore il rifinitore è adatto per tagli di precisione come basette e baffi. Purtroppo però risulta un pochino scomodo a causa della visibilità limitata dovuta al posizionamento. Un altro lato negativo è la mancanza di testine sostituibili e utilizzabili anche per i capelli come il Series 6. Il design è di qualità, color grafite, piacevole ed elegante caratteristico dei prodotti Brown. È munito di display a led che indica lo stato della carica della batteria con delle linee luminose. Inoltre la casa produttrice garantisce un'impermeabilità al 100% per poter utilizzare il rasoio sotto la doccia e per poterlo lavare facilmente. Ma cosa troviamo nella confezione? All'interno della scatola è presente anche la stazione di ricarica Smart Care che igienizza, lubrifica, asciuga automaticamente il rasoio. Oltre alla stazione è presente anche una spazzolina e una cartuccia per la pulizia. Quest'ultima contiene l'apposito liquido igienizzante che si inserisce nella parte bassa della base premendo il pulsante sul retro. Nella confezione troviamo anche una custodia portatile Power Case in similpelle adatta per i viaggi più lunghi in grado di ricaricare la potente batteria integrata fino a 6 settimane senza bisogno di utilizzare il cavo di alimentazione. Se siete interessati al Brown Series 9 Pro lo potete trovare su bpmpower.com cliccando sul link riportato in basso in descrizione. Mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale youtube e se vi va lasciateci anche un commento. Ciao e al prossimo video!